Farò di tutto perché l'Italia tenga i due gran premi, è vero che è un unicum, però Imola e Monza sono pezzi di storia, quindi faremo di tutto anche come relazioni diplomatiche per garantire agli appassionati e per garantire un introito che è di centinaia di milioni di euro sui territori.